Victor ha le prese col mio con il mio scooter ecco che arriva ciao Vic va bene ora gira e ora arriva eccolo qua Com'è andata? Ciao Manny Ciao Manny Ciao Manny Ciao Manny C'è un casino tremendo Ciao Manny Ciao Manny Ciao Manny Ciao Manny Com'è? Facendo un po' la sosta qui a Cremona e appena terminiamo la sosta continuiamo in direzione Venezia Venezia, Marghera? Marghera no, arriviamo la mattina però Siamo a Montemelo, c'è la trattoria a mangiare, ceniamo e... E beh ce lo meritiamo anche no? Un pasto? Almeno quello Dopo una giornata di lavoro, per lo meno la cena Facciamo vedere anche l'autogrill Vic? Certo, l'autogrill di Cremona C'è ancora 5 scatti E' positivo eh 5 e una giornata di lavoro Hai guadagnato un'ora buona K, K Guarda quanto letame qua sulla destra Che ha scaricato E' positivo Stanno iniziando già a lavorare la terra Arare Buttano le letame Cominciano a preparare il terreno Grano turco, no? K, K Tutta quest'aria dove stiamo... Superando adesso è tutto grano turco Grano turco si dice il maiz Diciamo in spagnolo Grano turco Ora ci dobbiamo spostare perché... Per un ordine di partenza la mattina E' venuto il custode del parcheggio del ristorante Di qua a Montebello E ci fa spostare Ora ci mettiamo dalla parte opposta Infatti ora Victor sta facendo manovra Perché... Ci dobbiamo mettere di la E' venuto di che gira Ciao Ti hanno fatto spostare? Eh io... Ho informato Perché partiamo alle 7 di mattina Perfetto, perfetto Perfetto E' venuto E' venuto Ok, ok Si è messo un parcheggio Ora un po' di retromarcia E ora mi ci vado a infilare io Vi saluto Ciao E noi andiamo a mangiare E' un aperitivo E' un aperitivo Sta riempendo E' il momento Stanno arrivando uno dietro l'altro hai un nero? eh sì, un altro forse e comunque ce n'erano già e quando siamo arrivati noi comunque fermi? sì ciao, abbiamo posteggiato? siamo a posto, abbiamo posteggiato i camion sono anana ti facciamo fare l'anana, Victor ok benissimo mi ci aggiungo anch'io, un saluto all'ecuador c'è l'anino, il mio collega, adesso gli faccio un piccolo video ciao Dani, siamo pronti per la cena dopo una giornata lunga di lavoro? eh sì, abbiamo fatto la nostra giornata noi siamo in fondo, giustamente, e noi finalmente riusciamo a farci la nostra mangiata la nostra mangiata, almeno un pasto al giorno, alla sera è certo è così e poi ci facciamo un riposino un po' riposino come vi ho detto, questo è il parcheo di Montevelo del ristorante qui è La Padana La Padana, il ristorante La Padana siamo nella zona del vino bianco qua è la coltivazione dell'uva alla grande alla grande è vero? i camion che arrivano uno dietro l'altro sono per tutti mando un bacio e vi vado a mangiare ciao 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 Il Murca, ciao Venezia. Ciao, ciao. C'è fatto il compito a Pbf3. Un'altra cosa in Sardegaria. Viviamo un uomo. Il suo frattiere per i culi dei grandi. Dai, allora. Che tutto è tutto. a un certo punto lui orgoglioso tutto unto com'è questa storia forza Giulia, forza Lorenzo dai eh perché mancano 60 secondi quindi dobbiamo muovere il PBM1 mi raccomando oggi non chiamate tutti gli storditi Nicola da Montesilvano Nicola non è che ce l'hanno scritto in fronte vabbè comunque 60 secondi come ha ricordato in legna e poi c'è il PBM2 istituzionale un appuntamento e poi c'è il PBM2 un appuntamento in impegno e beh dai a me non dice mai che sono letto che la stanno rovistando PBM35 ma sono il cecchino è un cecchino professionalista proprio special power ma come ti chiami? chi sei? buongiorno buongiorno scusa scusa Gian Paolo Gian Paolo dove siamo con te Gian Pio? siamo a Milano a Milano o in là sta facendo un sciopero Giappi io purtroppo vorrò un negozio da soprucca ah e com'è la inelettorzona lo sciopero sta creando è un bel casino è un bel casino oggi mi sa che la frutta la frutta si buona come si chiama la tua il tuo negozio Gian Pio? non è mio io non lo gestisco io sono gli dipendenti però si chiama Verde Salvia 26 si chiama Verde Salvia 26 Verde Salvia 26 in che senso? perché è arrivato questa vabbè giustamente tu dici non è mio non lo so però magari lo sai Verde Salvia 26 eh anche lui noi diciamo io sono venuto qua a lavorare questo si dice come si chiama Verde Salvia 26 beh a me sarebbe venuto a con me vabbè per chi perde a zero per chi vince amato e ancora non si sa perché potrebbe essere attenzione anche in versione auto gold oppure non lo so chi lo può dare ma evito perché qui la situazione non è non è chiara se il quarto oh non è Grazie a tutti. Grazie a tutti.